La donna al volante dell'utilitaria RR, le sue iniziali, una settantenne di Recanati, secondo una prima ricostruzione avrebbe invaso la corsia opposta, in direzione monte. Dall'altra parte viaggiava verso mare LK, un albanese di 42 anni, alla guida di un camion adibito al trasporto carni in cella frigorifera, che non ha potuto evitare l'auto. L'impatto è stato violentissimo, la app è stata sbalzata fuoristrada, mentre il camion si è rovesciato su un fianco qualche decina di metri più avanti. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi, anche se cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che l'ha condotta all'ospedale di Torrette. Il camionista, fortunatamente illeso, è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Civita Nova Marche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale di Macerata, i carabinieri di Monte Lupone e i vigili del fuoco della sezione di Civita Nova Marche, che hanno estratto la donna dalle lamiere. Il traffico è rimasto bloccato per più di un'ora e deviato nelle vie alternative.